Eeeh, bella giornata di Shitcock, io sono Luke e benvenuti in questo nuovissimo video Aggiornamenti. Ebbene sì ragazzi, finalmente siamo in mille, in mille, cioè noi abbiamo iniziato che eravamo in due e adesso siamo in mille. Mamma mia che bello. Grazie ragazzi e soprattutto grazie a voi che avete schiacciato il tasto qui sotto e se non l'avete ancora fatto mi raccomando schiacciatelo e vi ringraziamo tantissimo perché finalmente abbiamo raggiunto il nostro primo traguardo dei mille iscritti. E proprio per questo sabato sera io e Fra, al posto di andare in discoteca come fanno tutti i ragazzi normali, ci siamo riuniti e abbiamo deciso che per voi faremo tre speciali, però non vi diremo quali. Oggi vi dirò solo il primo speciale che abbiamo deciso, ossia quello che sapevate già del torneo da 2000 gemme che faremo oggi alle 17. Oh, vi abbiamo accolti impreparati eh? Vi giuro ragazzi che mi sembra ieri quando il nostro primo torneo che abbiamo fatto avevamo tipo 180 iscritti e adesso siamo qui a mille iscritti a fare un altro torneo. Tutti insieme e gli spacchiamo tutti. Dai, dobbiamo riuscirci ad arrivare a 2000 entro domani. Sfida, 2000 entro domani. Un'altra cosa molto importante che volevo dirvi è il fatto che in questi giorni, dato che è agosto, c'è poca gente su YouTube, insomma è un po' periodo di vacanza, facciamo un po' anche noi un po' di vacanzina. Andremo un po' più lenti con i video, ci sarà Fra che fa un po' meno live, magari ne farà una al giorno, una ogni due giorni. Io farò un video al giorno ma se proprio non riesco, una ogni due giorni. Però vi assicuro ragazzi, rimanete sintonizzati perché oltre al fatto che dovrete rimanere sintonizzati per gli altri due speciali che saranno, se vengono bene, una cosa veramente bella. Dovrete rimanere sintonizzati anche perché a settembre si riparte a bomba. Faremo da settembre fino a luglio prossimo a boom boom boom. Faremo un sacco di video, un sacco di live, porteremo un sacco di giochi. Dobbiamo riuscirci, dobbiamo riuscirci insieme, dobbiamo crescere insieme. Ma ce la faremo, dai. Fino a un mese fa eravamo a 600 iscritti e adesso siamo a mille, mille. Inoltre una domanda super importante che volevo farvi è, ragazzi, voi siete ancora interessati ai video di Clash Royale? Perché io e Fra abbiamo in mente un sacco di nuove serie e arriveranno un sacco di nuove serie. Vi dico degli esempi su di me perché Fra non mi ricordo mai cosa mi dice. Vi dico Airstone, vi dico più Overwatch, vi dico, non so, qualche collaborazione con dei canali a cui ci siamo rimasti in contatto in tutto sto tempo, ma fateci sapere se volete più quei tipi di giochi o più tipo deck di Clash Royale o sfide di Clash Royale, sempre tenendo conto che i tornei li faremo comunque, però proprio i video, video, video. Faccio come fa PewDiePie. Siamo mille iscritti. Mille iscritti. Mille iscritti. E ragazzi, il video termina qui. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, commentate scrivendo se oggi pomeriggio verso le 17 ci sarete in questo torneo, super fighissimo, e vi ricordo di iscrivervi al canale perché siamo già in mille e stiamo crescendo sempre di più ragazzi. Vi ringrazio tantissimo, noi ci vediamo al prossimo video. Bella. Buona fortuna per il torneo.